Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. La discesa in campo, così la chiamata Ciriello, di Arianna Meloni. Forse potrebbe, oltre ad avere un incarico importante del partito, come abbiamo visto, potrebbe candidarsi all'europeo. Mi sembra già un partito a forte connotazione familistica. Purtroppo il familismo è entrato anche nelle istituzioni, nella politica, ma su questo siamo abituati. Quindi anche non è, mi sembra, troppo una novità che caratterizza solo il governo delle destre. Se mai affrontassero il tema della fiamma, perché credo che un partito che sta al governo di una repubblica antifascista debba togliere quel simbolo che ricorda una stagione che, mi auguro, abbiamo cancellato tutti quanti per sempre.